La parola solenoidale la useremo? Non è vero che è un campo non irrotazionale cioè rotazionale senza solenoidale, è falso. Sbaglio? Quindi non ho nessuna giustificazione perché ho anche detto, convinto, che è il motivo per cui si era introdotto questa parola per evitare confusione con la parola irrotazionale quindi avevo proprio un errore in testa forse perché, ripeto, è un concetto che devo tirare fuori e nel cercare di convincermi a dirvelo in maniera enfatizzando ho detto, no, ora, quello sape pittanata Quindi, un campo che non è irrotazionale ci dice che è irrotazionale, putto! Vi dico subito cos'è il solenoidale perché è un'anticipazione ed è anche un... stiamo familiarizzandoci con questo operatore qua questo operatore qui, questo operatore qua si chiama l'operatore Nabla tra amici lo si può chiamare l'operatore gradiente e abbiamo visto già adesso, stamattina, il rotore c'è un altro rotore, c'è un'altra operazione molto importante quindi ne abbiamo tre, uno è applicare Nabla e quindi per esempio applicate Nabla a un campo scalare è creato in gradiente un altro è di applicare Nabla tramite il rotto vettore su un campo vettoriale e costruite il rotore c'è un'altra operazione che sarà molto cruciale nel corso che si chiama divergenza la divergenza si applica pure a un campo vettoriale quindi Nabla si applica a scalare in genere e costruite in questo modo un vettore invece questi due operatori qua il rotore è la divergenza dovete applicarli a vettori il rotore crea un vettore quindi abbiamo visto già stamattina quali sono le competenze la divergenza invece si scrive così questo è un prodotto scalare crea uno scalare quindi abbiamo visto già stamattina quali sono le competenze componenti del rotore cos'è questo? allora uno parte di nuovo questa notazione cioè l'idea di pensare all'operatore Nabla come se fosse un vettore quindi questo oggetto qui è l'idea dietro questa notazione qui quindi se io voglio fare il rotore vi riscrivo di nuovo fate questa matrice questa determinate formale quindi questa notazione l'avere riprodotto questo oggetto qui è molto utile perché vi fa scrivere cos'è il rotore e vi fa scrivere cos'è la divergenza la divergenza di un campo metoriale è formalmente è il prodotto scalare tra l'operatore Nabla e l'operatore v formalmente si scrive così fa parte delle cose che dovete imparare si scrive così attenzione sono particolarmente stufo di vedere persone venire all'orale che non hanno cos'è questo brusio? da dove viene il brusio? ah per cortesia in fondo non parlate non voglio sentirvi potete stare la certo ma non vi voglio sentire d'accordo? d'accordo? cos'è? lo scrivo sono molto impaziente ultimamente nei confronti di studenti che vengono gli orali e scrivono un po' cialtrona come si dice? in maniera cialtrona le cose cioè io spendo un po' di tempo e fatica a cercare di scrivere in maniera leggibile a differenza di molti miei colleghi che scrive in maniera non leggibile e poi voi venite e non rispettate il mio tentativo di scrivere chiaro non rispettate il mio tentativo di insistere che la notazione va rispettata non tanto per rispetto di me ma perché è una notazione che vi aiuta aiuta notate la differenza tra questo e questo questo è un vettore che avrà delle componenti per esempio a un x di nuovo cos'è? ho questo che è applicato questo questo invece è uno scalare guardate come è fatto memorizzatelo memorizzatelo cercate di cogliere il modo in cui lui è scritto è la notazione che vi sta aiutando a scriverlo a ricordare come si scrive perché anticamente come vi ho detto si scriveva rot e si scriveva div poi qualcuno ha notato che forse riusciva a far entrare nella zucca dei studenti cosa sono queste cose introducendo questa notazione qui perché di fatto il rotore lo si poteva pensare come un prodotto vettore e la divergenza come un prodotto scalare di v per l'operatore questo è veramente la divergenza poi qualcuno ha notato che questa notazione era un aiuto per gli studenti ok? guardate come è fatto è uno scalare faccio la derivata parziale di v x rispetto a x più la derivata della componente y rispetto a y più la derivata della componente z rispetto a z guardate come è fatto non ci sono più i versori perché è un prodotto scalare un campo vettoriale che ha divergenza identicamente nulla un campo v che ha divergenza identicamente nulla questa si chiama solenoedale non ho giustificazione dell'errore che ho fatto questo mi cospargo il genere sulla testa non riesco a spiegarmi questo errore se non col fatto che ripeto devo avere tante cose in mente che vi sto dicendo voglio dirvi e si sono un po' sovrapposti però non vi spiego l'insistenza che ho ripetuto la parola nuova la parola nuova la parola nuova questa non me la spiego ok? e questo si dice solenoedale perché il campo magnetico che poi noi descriveremo tra poco ha proprio la caratteristica che la divergenza è identicamente nulla il campo magnetico è un campo vettoriale che ha divergenza nulla che cazzo è la divergenza? e quella nuova e adesso nei prossimi minuti vi do qualche tentativo di anticiparvi cos'è il rotore e cos'è la divergenza lo sapete calcolare ma cos'è? cosa sta cercando di esprimere? voglio spendere qualche minuto a cercare di renderli di questo ok? anzi devo decidere se farlo ora perché per farlo è un po' impegnativo e devo decidere se introdurre i concetti che mi servono oppure no per protesia ci provo per farlo dobbiamo introdurre un concetto nuovo shhh allora l'idea è questa campi vettoriali frecce dappertutto c'è una ricetta che vi dice in ogni punto come costruire la freccia che è associata a quel punto allora immaginate che questo qua questo mio quaderno sia una piastrella quindi è un luogo di punti dello spazio quindi immaginate una superficie nello spazio ecco qua visto un po' prospetticamente ok questo la vedo faccio un po' prospetticamente così in questa zona dello spazio immaginate che la piastrella sia piccola poi cosa farò? farò piastrelle semplici piccole immaginate che in questa zona dello spazio voi abbiate un vostro vettore di campo vettoriale no? ecco qua questo è il campo vettoriale track è associato a quel punto ok adesso la piastrella questa cosa che sto per dire l'avevo anticipato qualche settimana fa vi ricordate che avevo detto che io posso associare a una piastrella un vettore silenzio io posso associare un vettore a questo un vettore che sarà la chiamerò ad un'area quindi questa piastrella a un'area io voglio associare a questa piastrella un vettore che ha come modulo l'area della piastrella quindi se misuro i lati e se misuro le lunghezze in metri l'area della piastrella sarà metri quadri quindi io voglio associare a quella piastrella un vettore e il vettore avrà come modulo un certo numero di metri quadri quale sarà la direzione del vettore? allora lo si fa in questo modo silenzio si prende la mano destra e si decide in modo tutto arbitrario di seguire il contorno il bordo della piastrella guardate come il bordo della piastrella è una curva chiusa il bordo è una curva chiusa questa curva qua che evidenzio in qualche colore magari in verde è una curva quindi la piastrella ha un bordo il bordo della piastrella è una curva chiusa è un circuito adesso io voglio immaginare di percorrere quella curva chiusa e ho due opzioni se questa è la piastrella ho l'opzione di girare così ho l'opzione di girare così d'accordo? ho due possibilità allora cosa faccio? prendo una monetina e lancio la monetina se viene fuori che giro così testa giro così croce giro così allora venendo fuori questo del tutto arbitrariamente a caso prendo la mano destra la sciolgo faccio andare le dita nella direzione con cui va quella freccia dovete immaginare che se questo fosse trasparente e io fossi di qua vedrei la freccia far così quindi prenderei le mie dita e farle così voi la vedete così fate così con le dita io che sono dall'altra parte vedo pure le dita andare così e metto un pollice nello stesso modo che voi la guardiate così da dietro il pollice è nella stessa direzione ok? quindi avendo a moneta deciso arbitrariamente di far girare le frecce così prendo la mano destra e dico che il vettore area quindi l'area la faccio diventare un vettore il vettore area è dato dal mio pollice la direzione del mio pollice è la direzione del vettore area qual è il modulo di quel vettore? i metri quadri della piastrella è chiaro che se io quando lanciavo la moneta se mi veniva così voi io vedo la stessa cosa il pollice è dall'altra parte quindi la direzione del vettore in un certo senso è una decisione arbitraria ma una volta che l'avete preso quindi supponiamo che io decido dov'è il gesso verde che io decido di far girare le mie dita in questo modo sulla piastrella quindi con il gira così il vettore area che lo disegno in verde perché no? è un vettore che in questa direzione è perpendicolare alla superficie questa è la convenzione il vettore area è perpendicolare alla piastrella ed è a un verso che è dato dalla vostra mano destra dove le dita corrispondono a come voi girate sul bordo dell'elemento di area della piastrella se girate così allora il vettore area è su se giravate così il vettore area è giù ma una volta che avete assegnato l'area alla piastrella adesso prendete quei due vettori e ci fate il prodotto scalare quindi questo è il vettore rosso questo è il vettore chiamiamolo area e fate il prodotto scalare quindi il v prodotto scalare questi gessi colorati alla fine rompono tanto i marroni ok? questa è l'idea fate un prodotto scalare tra il vettore del campo vettoriale e il vettore che rappresenta l'area di quella piastrella d'accordo? allora immaginate di avere una superficie di forma strana non necessariamente piatto come il tavolo ma può essere ondeggiante ci sono le coperte ci sono le coperte come si chiamano in italiano ma in inglese ci sono chiamate quilt con la Q credo che sia tra buca forse quindi è una coperta fatta di tanti piccoli rettangoli di stoffa sono belli da vedere perchè magari sono pezzi di stoffa di colore diverso o disegni di trame diverse e quindi uno ha un lenzuolo che ha una coperta che è abbastanza bello da vedersi cosa succede? o anzi un'altra analogia è quella dell'armatura credo di aver detto già questo più di un mese fa l'armatura a scaglie dei soldati medievali antichi dove avete una singola scaglia oppure un singolo quadrato della trapunta e poi voi accostate diverse di queste scaglie o diverse di questi rettangoli di trapunta e potete seguire un contorno per esempio quello del torace del soldato ogni piastrella è piatta ma poi li accostate assieme in modo da seguire un contorno più o meno curvo quindi potreste pensare che ogni pezza della trapunta è localmente abbastanza piatto però poi la trapunta può avere le sue ondulazioni quindi l'idea è che una superficie anche abbastanza ondoso può essere approssimato con delle piastrelle piatte come l'armatura a scaglie e com'è che si fa una descrizione sempre più fedele della superficie ondulata? prendendo tantissime scaglie tutte molto piccole giusto? è la stessa idea è diventato quasi un tormentone questo un integrale la pensate come la somma dell'area di tanti rettangoli un integrale curvilineo cosa fate? pensate a una spezzata questa è una superficie che stiamo cercando di descrivere come tante piastrelle, tante laminelle o lamelle credo che nel gergo delle armature sono chiamate lamelle tante lamelle, ognuna è piatta ma accostata e messa in modo opportuno può seguire con una certa fedeltà una superficie curva volete una fedeltà maggiore volete che le vostre piastrelle descrivano in maniera più precisa la superficie di forma qualsiasi dovete fare piastrelle sempre più piccole è chiaro? allora in ognuna di queste piastrelle eccole una eccola un'altra che magari ha una direzione diversa no? cioè se queste sono il tavolo è inclinato sono due piastrelle diverse per esempio il vettore area di questa qua nera è perpendicolare per costruzione diciamo che sono perpendicolari i vettori che rappresentano l'area il vettore del quaderno nero è 90 gradi rispetto al quaderno nero quello del quaderno rosa è perpendicolare a quella quindi hanno diverse direzioni non siete d'accordo? quindi questo qua la direzione di questo magari è così la direzione di questo è così e il verso allora cosa uno fa? decide di seguire il contorno esterno della superficie questa curva qua questa curva è il contorno della vostra della vostra trapunta è come era qua una curva chiusa quindi se io l'appiattisco questo visto che è una trapunta posso farlo questo immaginate che sia la trapunta e queste sono le lamelle o le piastrelle o le pezze che costituiscono la trapunta allora io decido arbitrariamente guardo il contorno esterno questo è il contorno esterno che è una curva chiusa eh? decido arbitrariamente di percorrere quella curva verde o in senso orario o in senso anti-orario lancio una moneta supponete che venga fuori orario quindi io immagino di girare così ok? allora le singole piastrelle poi diventerà più chiaro più vado avanti nelle prossime ore non tanto adesso questa è un'anticipazione dovrebbe essere abbastanza intuitivo che il modo in cui questa piastrella viene orientato eredita quella del contorno esterno quindi questa piastella qua la girerò in questo verso questa piastella questa qua come gira? magari faccio colori diversi perchè è importante quello che succede nel bordo che condividono c'è un bordo che condividono no? che è questo qui qua lui va così va così non ci sono problemi va così ma qua va così vedete? che questa piastrella gira così questa piastrella gira così quindi su questo bordo che condividono stanno andando in direzioni opposte analogamente questo qui erediterà il verso della curva esterna nuovo vedete c'è una compensazione qua poi vedremo in che senso c'è una compensazione per il momento vedete che c'è un tratto che ha due modi di percorrere questa piastrella lo percorro in senso orario questa piastrella lo percorro in senso orario no tutti e due questo è orario questo è orario però vi sto dicendo male questa freccia sta andando così questa freccia sta andando così ma sono tutte e due nel senso orario lo vedete? è che sono sul lato opposto dell'orologio è chiaro che a ore 3 se questo è l'orologio questa freccia sta andando così tutte e due in senso orario quindi mi stavo esprimendo male tutte e due in senso orario però su questo specifico tratto la curva rossa sta andando giù la curva vera sta andando su e se fate sistematicamente quello che succede vedete che questo eredita va giù va così e va in contraposizione qua questo cosa succede? va così, va così, va così e va ovviamente così vedete che c'è una spessa di compensazione qua tutte quelle interne c'è una compensazione pensateci invece i bordi esterni sono in maniera non ambigua è chiaro cosa succede qua no? invece internamente a questo qui questo sarebbe così, così, così questo cosa sarebbe? dovete immaginare no? cioè ognuno di quegli interni c'è una compensazione convincetevi di questo fatto quindi una volta che avete deciso come orientare la curva esterna le singole piastrelle sono orientate anche loro quindi l'orientamento, ascoltate le parole, l'orientamento del bordo esterno mi fisserà l'orientamento delle lamelle interne ok? è chiaro questo? quindi se io decido di percorrere la curva esterna così allora questa qua è orientata nello stesso modo in maniera consistente questa sarà orientata così quindi l'elemento di aria di questo sarà un vettore che puta che so sto usando il verde per gli elementi di aria sarà un vettore che è in questa direzione questa che so è in questa direzione dovete cercare di usare la vostra capacità di immaginare un disegno tridimensionale quindi guardate di nuovo le due piastrelle di questo tavolo sono messe così e io giro in senso esterno così quindi le due piastrelle girano così quindi quando faccio così il vettore aria di questo è in questa direzione e il vettore di aria è in questa d'accordo? se questa piastrella fosse qua dopo un'armatura che segue ecco una piastrella che fa parte della spalla questo sarebbe in questa direzione e questo sarebbe così è chiaro? dovete essere capaci di immaginare come potrete farvi disegnare questo? se questo è un pezzo pianeggiante e poi va così e poi va così se lo so così lo vedete? se io giro così questo qua l'elemento di aria dov'è il gesso verde? talmente ricoperto il gesso bianco che non lo vedo più prendo questo questo sarebbe così questo qui sarebbe così e questo sarebbe difficile disegnarlo sta andando dentro riuscite a vedere? si? riuscite a vederlo? se poi lo apro questo lo spalanco e lo metto piatto tutte le frecce verdi sarebbero verso l'alto ci siamo? ah santa pazienza dove è il cancellino? ecco quindi sia questa è la mia armatura o la mia come l'ho chiamato in italiano? traputa traputa ah una forma non è certamente piatta ho deciso di percorrere il bordo esterno in un certo modo le singole pezze o le singole lamelle sono di conseguenza orientate in quel modo quindi immagino di avere tante di queste piastrelle quindi ho tutta una fitta rete una fitta tramatura lo so come dire in italiano ok? avete tante piastrelle shhh avete tante piastrelle e in ognuno di quelle zone dello spazio in questa piastrella qua c'è un campo vittoriale che caratterizza questa zona della lavagna eccola qua qua la piastrelle magari sta andando così sta entrando qua sta uscendo non so se questo è il sedere della freccia sta entrando non so se riuscite a immaginare anche al di là della viabilità potete immaginare che ognuno di queste piastrelle ci sia una freccia cosa farò? piuttosto di usare la lettera A grande che non mi piace e mi petto anche dell'usata uso la lettera A piccola ok? quindi il vettore questo qua è il vettore A piccolo quindi per ognuna delle piastrelline per ognuna delle lamelle faccio il prodotto scalare del vettore area di quella piastrella per il campo vettoriale di quella zona di nuovo quale vettore? perchè in fondo questa è una zona uso il valore al centro potrei usare questo valore qui il valore qui quale punto? questo punto? quale porta? faccio una stima allora faccio una scelta arbitraria e scrivo giù questo numero e anzi faccio un'altra piccola modifica di notazione e mi petto e non l'ho fatto siccome questa piastrella è piccola siccome questa piastrella è piccola chiamiamolo delta A in modo che ovviamente capite cosa succederà no? perdonatemi se faccio queste piccole modifiche ma la giornata è lunga anche per me voi state seduti io sono in piedi a parlare cosa succederà? nel limite quale limite? che il numero delle piastrelle diventi sempre più grande e che quindi descriva la superficie con piastrelle sempre più numerose e sempre più piccole quindi nel limite che il numero delle piastrelle diventi arbitrariamente grande e che l'area delle piastrelle diventi sempre più piccola questo è uno zero con una dimensione metri quadri con una dimensione lunghezza quadro è uno zero di area quello zero a cui queste delta attendono è un vettore nullo tipo area però cosa diventerà? si scrive così siccome è un elemento fatemi scrivere la notazione poi lo commento attenzione come lo scrivo intanto questa è una superficie S quindi avete in mente una trapunta avete in mente un'armatura che ondeggiate in un certo modo quindi questo numero che sto scrivendo è pertinente a quella superficie io scrivo e poi commento tenderà tutte le nostre diverse stime tenderanno a un numero in comune e si scrive così questa notazione vi sta aiutando a capire che diavolo state facendo il pendice S vi fa capire che state calcolando questa cosa rispetto a quella superficie il fatto che avete due integrali qua è un promemoria non è a rigore necessario ma io suggerisco allo studente e lo chiedo perchè è un modo per ricordare che state integrando in realtà in due dimensioni perchè questo oggetto qua ha dimensioni di un'area quindi questo è un integrale di superficie state integrando il campo vettoriale sulla superficie quale superficie? la S quindi state facendo un integrale di V sulla superficie notate che c'è il prodotto scalare perchè io sto facendo il prodotto scalare questo oggetto questo oggetto è quindi un integrale di superficie state integrando su un'area ecco perchè avete due integrali qua state integrando sia in X che in Y è un integrale doppio è un integrale doppio questo qua è un integrale doppio lo dico un'altra volta è un integrale doppio è un integrale di superficie è un nome si chiama il flusso del campo vettoriale V attraverso la superficie S cos'è il flusso di un campo vettoriale attraverso la superficie? pensate alla superficie pensate a un'armatura lamellare che approssimi la superficie con precisione arbitraria fate dunque una stima di cos'è il flusso pensate a un'armatura orientate la superficie cioè decidete come orientare i vettori di area le lamelle le fate diventare delle aree che hanno un modulo un certo numero di m3 quadri ma hanno anche una direzione la direzione è perpendicolare alla lamella ma hanno un verso quindi voi per decidere come orientare le lamelle dovete decidere come girare sul contorno delle lamelle che è equivalente a girare sul contorno della superficie una volta che avete deciso in maniera arbitraria come girare sul contorno ecco che le lamelle sono orientate quindi sono lamelle orientate a questo punto fate il prodotto scalare del campo vettoriale su quella lamella per il vettore area di quella lamella e sommate su tutte le lamelle verrà fuori un numero che può essere maggiore di 0 uguale a 0 o minore di 0 quando è che è uguale a 0? quando per esempio se questa è la vostra lamella l'area anzi lo disegno non in maniera in prospettico ma questo è l'elemento di area immaginate che state entrando qua all'uscello quindi l'elemento di area è orientato così questa è la dA se il campo elettoriale in questi punti è così ecco che avete che il flusso del campo v attraverso questa lamella è 0 se invece v è così il flusso è positivo se invece v è così il flusso è negativo è chiaro che però quello che è positivo e quello che è negativo era legato solo a come io avevo orientato questo se qualcun altro entra dentro e orienta la stessa superficie in questo modo è una scelta arbitraria ecco che questo dà un protoscalare positivo e questo dà il protoscalare negativo però rimane che quello che è è 0 quindi il segno dipende da come orientate sto cazzo di superficie non devo dire parolacce il segno dipende da come orientate la superficie è una scelta arbitraria no? d'accordo? questo è vero per le superfici questa è chiamata una superficie aperta una superficie aperta ma ci sono anche superfici chiuse allora superficie chiuse è come un sacco chiuso ovviamente non lo posso disegnare immaginate quindi questo è un esempio della superficie aperta è un sacco aperto vedete che c'è il buco almeno ho cercato di rendere quello che c'era un buco è una superficie aperta questa se poi voi chiudete il buco quindi stringete fino a chiudere quindi più o meno ha questa forma qua però l'avete chiuso cosa vuol dire una superficie chiusa? che ha un interno una superficie con un buco a rigore non ha un interno non fatevi ingannare dal fatto che una pentola una pentola aperta questo è il coperchio che una pentola aperta non ha un interno non fatevi ingannare dal fatto che potete versarci dell'acqua capite che non ha un interno perché basta ribaltare la pentola che l'acqua esce fuori se invece chiudete la superficie chiudete il buco quindi ci mettete il coperchio sopra ecco che questo ha un interno perché l'acqua che è dentro rimane dentro anche quando la capovolgete ok? quindi una superficie chiusa per un matematico è una superficie che ha un interno una superficie con un buco non ha un interno è un esempio paradigmatico per eccellenza la superficie aperta è una superficie piatta no? non ha un interno casomai ha due lati non ha un interno e solo quando prendete gli estremi e li chiudete ecco che avete un interno avete il gatto dentro non dire gatto se non ce l'hai nel sacco se non chiudete il sacco non avete il gatto scappa via dovete chiuderlo d'accordo? questa è una superficie aperta e la superficie chiusa allora c'è una convenzione attenzione per le superficie aperte questa piastrellina qua quindi è ancora aperta è ancora aperta dalla superficie immaginate pensate a questa piastrellina qua io voglio associare un vettore di area a quella piastrellina va bene? a modo lo abbiamo capito è l'area della piastrellina e il verso vedete che potrebbe andare per di qua o dall'altra parte quale sarà? dipende da come oriento la curva no? che è il bordo della superficie quindi se io tiro le monetine questa è la curva dove è in verde? questa è la curva chiusa che è il bordo del buco ok? io oriento quella curva in modo arbitrario per esempio la oriento così ok? sta orientata qui come sarà orientata allora questa piastrellina? potete immaginare che se la piastrellina fosse stata proprio attaccata come era orientata la piastrellina? questa è una piastrellina che è adiacente e questa è così come sono orientate queste piastrelline? vedete che questo signore qui sta girando in questo verso e quindi è orientato così non vi pare quella piastrellina? è orientato così allora il vettore di questo signore sta puntando in non voglio dire dentro perché non c'è un dentro non vi pare? lo vedete? questo sta puntando lo faccio trappeggiato trappeggiato vuol dire che in qualche modo è dall'altra parte trappeggiato questo pure trappeggiato lo vedete? se invece giravo in senso opposto e questo è il buco e questo è il sacco com'era? che non ricordo più? facciavano così ok? era così mi pare questo ho cambiato quindi questa piastrella qua anzi lo disegno qui così forse è più vicino al bordo e riuscite a vederlo meglio come sarà orientato? è così quindi lui è lo stesso no no va bene va bene quindi è così l'elemento di angelo vedete? se invece giravo sulla curva verde in direzione opposta andava in questa direzione d'accordo? siete d'accordo? ma adesso per le superfici chiuse c'è una convenzione per le superfici chiuse se questa è una piastrella vicino al bordo e questa è una piastrella vicino al bordo così in qualche modo è più facile disegnare la convenzione è che gli elementi di area per una superficie chiusa vanno verso il fuori la convenzione è quella non c'è un dentro fuori qui quindi non potete applicare una regola la regola va verso fuori dov'è il fuori? non c'è un fuori non potete catturare il gatto finché non lo chiudete solo quando lo chiudete c'è un dentro e c'è un fuori allora con le superfici chiuse si dice che le piastrelle quando si calcola il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa quindi questa è la freccia a v in questo punto questa è la freccia a v in questo punto questa è la freccia a v in questo punto il flusso attraverso una superficie chiusa gli elementi di area della superficie sono orientati da dentro verso il fuori quindi le frecce verdi questo è orientato così questo è orientato così questo è orientato così verso il fuori nelle superfici aperte non c'è un dentro o un fuori quindi avete bisogno di orientarli con un'altra regola e qual è la regola? la mano destra e quindi il lancio della monetina quindi l'orientamento delle piastrelle su una superficie aperta è arbitrario ma una volta che l'avete scelto dovete essere consistenti quindi di nuovo se voi decidete di percorrere la curva così allora questo elemento di verde è così quindi un eventuale campo vettoriale qua darà un prodotto scalare positivo ma se giravate in senso opposto l'elemento di aria era così e davanti un prodotto scalare negativo quindi è una scelta arbitraria e voi dovete essere consistenti e ricordare che quel segno è solo perché avete deciso di orientare in un modo anzi che l'altro ma con una superficie chiusa invece gli elementi di aria sono da dentro verso il fuori da dentro verso il fuori quindi se per caso questo elemento di aria qua che è orientato verso il fuori se per caso in questa zona dello spazio il campo vettoriale sta entrando nella superficie e la parola entrare adesso non è ambigua perché c'è un dentro quello avrà un prodotto scalare negativo se invece in questa zona il campo vettoriale esce e la parola esce non è ambigua perché la superficie ha un dentro allora il prodotto scalare sarà positivo qua negativo qua positivo quindi qua c'è un dentro e questo è un fuori questo è per le superficie chiuse qua non c'è un dentro non c'è un fuori è ambiguo d'accordo? come si scrive? c'è una notazione speciale come si scrive il flusso di un campo vettoriale attraverso la superficie chiusa? si scrive così scrivo qua dove è il cancellino? si scrive così è un integrale di superficie quindi è un integrale doppio ovviamente dovete specificare la superficie e il fatto che è chiuso lo si indica con un cerchio così non vi ricordo qualcosa? è lo stesso stile la stessa idea e quindi il prodotto scalare tra il vettore e gli elementi di area questo è il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie chiusa quando la superficie è aperta invece non ci mettete il cerchietto d'accordo? nel caso di una superficie chiusa questi elementi di area vanno da dentro verso fuori puntano esternamente puntano esternamente puntano verso l'esterno e la parola esterno ha un senso perché il gatto è dentro l'acqua è dentro una pentola col coperchio ha un dentro una pentola senza coperchio non ha un dentro la prova è basta ribaltare e l'acqua ce l'avete dappertutto facciamo una breve pausa così mi finiscono il controllo facciamo una breve pausa